La prima settimana da capolista sta scivolando in fretta, ma ciò è spiegabile con la voglia di rivedere di nuovo in campo i primi della classe del girone H della Serie D. Il direttore generale del Taranto, Gino Montella, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo sponsor sul settore giovanile, tiene comunque i piedi per terra. Noi siamo un gruppo, siamo in linea con quelli che erano i nostri programmi, i nostri progetti. Certamente oggi, come oggi, è molto facile perdere la testa perché siamo primi in classifica. Ma sappiamo che non abbiamo fatto nulla. A seguire ha parlato anche il capitano del Taranto, Massimiliano Marsili, che sottolinea il buon momento di Rosso Blu anche al di fuori del campo. Siamo felici di essere al primo posto. Alla città c'è da dir poco, comunque, alle persone di Taranto, perché sappiamo l'affetto e l'amore che mettono per questa maglia. C'è più positività da parte di tutti quanti e questa è una bella cosa perché comunque essere positivi e soprattutto essere uniti è importante per tutti. Sto vedendo anche più affiatamento tra noi, la tifoseria e la società e i giornali, tutto quanto. E questa è una bella cosa perché comunque si sta trovando, come dicono, hanno detto bene quelle parole, un equilibrio che comunque comporta una tranquillità. Ma poi il pensiero va subito al derby di domenica prossima all'Erasmo Iacovone con l'Andria. Una partita importante perché giustamente tu hai detto che le ultime tre partite hanno 7 punti, ma noi sappiamo l'Andria, il valore dell'Andria. Ma come ho detto prima, sappiamo il valore delle altre squadre, perché comunque non è stata, fino adesso per me nessuna partita è stata facile. E come ho detto prima, noi sappiamo il valore loro, ma noi dobbiamo essere consapevoli anche delle nostre qualità. Non stare sempre con i piedi per terra e lavorare come stiamo lavorando, perché sappiamo, e come ho detto prima, che ogni partita è una partita a sé.